Quando penso ad Archè penso non a una scuola ma a una famiglia perché con i professori, tutor, lo chef stesso, gli chef, siamo tutti amici diciamo. Ormai siamo come una famiglia, come una nostra casa. Gabriele così come Manuel, Giulia e molti altri hanno trovato all'interno di Archè non solo una scuola ma una vera e propria famiglia in pieno stile con la mission di Piazza dei Mestieri. L'ente di formazione Archè si trova nel quartiere di San Leone a Catania in un luogo dove il tasso di dispersione scolastica è altissimo. Da anni cerca di creare un futuro diverso per questi ragazzi e far trovare la loro strada. Archè porta avanti cinque laboratori, due di cucina, uno di termoidraulica, poi estetica e parrucchiera, un connubio perfetto tra teoria e pratica che cercano di svolgere all'interno di aziende o ristoranti. E per un giorno diventano i gestori di un intero locale come oggi a Catania cucinando e servendo per i loro clienti sempre supportati dai docenti. Questo è un esperimento che è nato così proprio dai rapporti semplici con i proprietari di questo locale che nel giorno di chiusura si sono andati disponibili a farci usare le loro strutture in modo da far sperimentare ai ragazzi cosa significa gestire un ristorante. È un esperimento che stiamo ripetendo e che ha subito suscito di interesse in altri imprenditori, in altri distruttori che ci hanno chiesto di rifarlo nelle loro strutture. I ragazzi al centro di loro stessi, del loro futuro per far emergere la bellezza della realtà che è il loro.